Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi finalmente siamo tornati qui in questo nuovo video arrivati sulla Sky Grid di TheLegendCraft Ebbene si ragazzi, oggi come avete visto dal titolo andremo a vedere la farm di Blades Vediamo come sta messa, poi in futuro ci saranno ulteriori upgrade Prima di iniziare col video, prima cosa facciamo salutare il YouTube perché chi saluta è una brava guaglione Di certo nessuno saluterà perché sono tutti maleducati, vabbè si spera che qualcuno almeno se ne accorga E qualcuno si Comunque detto questo ragazzi voglio dirvi una cosa che arriverà nei prossimi video Praticamente vi lascio un canale qui sotto in descrizione Ed è quello di Miticaccio Chi è Miticaccio? Per chi non lo conosce ragazzi è un ragazzo appunto che è iniziato a fare video anche lui su TheLegend Ha il canale già aperto da un bel po' di tempo, ha circa 2000 post iscritti E vi conviene andarvi a iscrivere ragazzi perché davvero fa live, fa video di Minecraft Ma soprattutto ha iniziato una serie insieme a me sulla Sky Grid Quindi raga andatela a vedere Detto questo raga sarà anche il nuovo coinquilino dell'isola Quindi vi raccomando dai prossimi video ci sarà un ospite speciale Detto questo link in descrizione andiamo col commento del giorno subito subito Allora raga oggi ho scelto due commenti perché il primo è quello di Rekt Spero che si dica così perché mi ha scritto che mi ha dato 24 milioni più 12 hopper Perché nello scorso video vi ho detto raga se mi sono dimenticato di voi, di chi mi ha fatto i regali Ditemelo infatti dopo lo aggiungeremo in bacheca Comunque un altro ragazzo invece è TheWhispers perché ho scelto lui Vediamo il messaggio Luke sei un grande scusa ma non mi era arrivata notifica video Quindi perché ho scelto questo punto abbastanza doloroso Voi direte Luke ma qual è il consiglio? Non ce ne sono consigli, semplicemente la frase ha un significato Perché lui dice che non sono arrivate le notifiche Perché questo raga? Perché YouTube funziona male Se voi non lasciate sempre like, non commentate, non condividete, non siete attivi su un canale Difficilmente vi invia le notifiche di quando carico un video Quindi assolutamente vi invito a lasciare un bel like come sempre Commentare un video con dei consigli su cosa fare nel prossimo video eccetera Condividere il video ma soprattutto raga accendete la campanellina Non dandogli fuoco Cliccate la campanellina che c'è vicino al mio canale Che appunto serve per farvi arrivare ogni volta le notifiche E mi raccomando fatelo perché è davvero importante Detto questo raga, vedete qui c'è la farm di zucche Ma noi oggi vedremo come sta messa la farm di blaze Allora salendo raga, ho messo una bella porticina così Con sto mini terrazzo E vediamo quanti spawner ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 spawner Ragazzi non sono tanti ma vedete un po' una cosa In 10 minuti che sono qui diciamo a FK Guardate quanti blades 516 Infatti ieri mi ti caccio Mi raccomando andate a vedere il video sul suo canale Che vi lascio in descrizione Ha farmato un bel po' perché siccome agli inizi Ha bisogno di big money e di big esperienza Quindi raga Nei prossimi video ci saranno sicuramente upgrade Di questa farm stupenda di blades Perché sono 7 mob spawner Però per il momento credo proprio che possa bastare Fatemi sapere cosa ne pensate Sì non è giganterrima però ci può stare Allora andiamo a ammazzare un po' di blades Giusto per farvi vedere Ah raga una cosa importante Qui ho potenziato la mia spada bedrock Che mi avete regalato Chiamandola Ola la spada Giusto per mettere un nome particolare Ola sapete che è il mio motto di saluto E aggiunto knockback 2 Giusto così per mettere una cosa in più Per farla ancora più potente Detto questo raga ammazziamo un po' di blades E poi vediamo un po' i regali del giorno Perché raga come voi sapete Non solo ci sono i commenti del giorno Ma anche i regali Che sono stati davvero tanti Ammazziamo raga quanti blades C'è poi una cosa genialata che abbiamo fatto Molto italiano quello che ho detto Praticamente è aggiungere questo faro qua Che ci permette di avere rigenerazione Perché qui ragazzi ci picchiamo sempre Quindi fa sempre bene E soprattutto forza Quindi con forza one shotiamo praticamente i blades Poi avendo looting 5 raga 6 farm Che è una bellezza incredibile Quindi continuiamo a farmare un pochettino E vediamo un po' quanto riusciamo a fare In una centinaia di blades Ok raga più o meno abbiamo ucciso Una centinaia di blades Un po' quanti blades lo riusciamo Eh vabbè raga Ma che vi sto a dire Abbiamo fatto con 100 blades Quasi 4 stack diciamo Di blades room Vediamo quanto riusciamo a fare vendendole Ricordo comando shop qui Andiamo su drop the mob Qui e voilà 620.000 In 5 neanche Neanche 5 minuti di farm Saranno stati un minuto due Quindi raga davvero È una farm efficiente So che con 27 mob spawner 390 400 mob spawner Si va meglio Ma quello è scontato Allora adesso passiamo al momento Un po' più cruente della giornata Perché vi farò vedere appunto I nuovi regali del giorno Il primo ragazzi è Regem Che mi ha dato 30 milioni Costi non poco Quindi grazie Regem Regem Non so come si dica Che mi ha dato ben 30 milioni Un altro ragazzo è stato FX576 Che sembra una marca della macchina Roba stupenda Più peak bedrock Quindi grazie a modello di auto Ultrasportiva Vabbè Cavolate a parte Grazie FX Poi L'altro personaggio Che mi ha dato roba bella È stato Ross Pro Che mi ha dato ben 30 milioni Infine ragazzi C'è XX Christian XX Che mi ha dato ben 45 milioni Raga Tutti questi soldi Che mi avete regalato Attenzione signore e signori Li metterò Nella bacheca Assolutamente Ma soprattutto Li ho usati Compresi questi qui Per fare appunto La farm di blades Fare un po' di Farm di zucca Migliorando delle cose Eccetera eccetera Quindi vi ringrazio davvero tanto Per tutto l'aiuto Poi vorrei ringraziare Rekt Che mi sono dimenticato Allo scorso video Che mi ha dato appunto 24 milioni Più 12 hopper Ti ringrazio Perché raga Gli hopper sapete Non si possono più craftare Quindi sono molto rari E ti ringrazio Qui c'è Act Tentando che farma Guardate il nostro magazziniere Com'è carico Cioè raga Ce ne erano 550 All'incirca Ne ha già portati 400 Cioè è proprio una bestia Questo signor Acted Adesso gli rubo un pochettino Tanto lui non se ne accorgerà Tipo mai No forse se ne accorge Vabbè lasciamolo farmare Per i fatti suoi Detto questo ragazzi Io spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Dei prossimi video Dureranno un po' di più Perché appunto Sarò in compagnia Di Miticaccio Quindi Il suo canale In descrizione Soprattutto Lasciate like Commentate il video Condividete Attivate la campanella Perché come ho detto È molto importante Iscrivetevi al canale E ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi